Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come fare gli spaghetti con le sarde. Innanzitutto ci vogliono sarde fresche e spaghetti di qualità. Sardiamo, aprendo e pulendo le sarde, le tagliamo a pezzetti. Adesso il fuoco, goccio d'olio di oliva, aglio e peperoncino. Rosoliamo le nostre sarde, quindi sale, pepe, grattata di limone e un goccio di vino bianco, di quello buono mi raccomando. Tritiamo quindi il pane e lo tostiamo su un padellino. Dopo tutta sta fatica, un bel bicchiere di prosecco. Quindi sale sull'acqua bollente e giù gli spaghetti. Una grattata di limone fresco sul pan tostato. Una volta cotti gli spaghetti, li passiamo sulla padella delle sarde. Date che cremetta ragazzi, sì o no? A sto punto iniziamo ad impiattare. Mettiamo giù gli spaghetti, sopra il pane croccante come fosse formato o grattugiato. Guardate che robetta, che bontà ragazzi! Beh, a sto punto se vi è piaciuto il video mettete un like. Ciao!